Gli agenti del commissariato di Alcamo a seguito di una complessa attività investigativa hanno arrestato il 37enne noto pregiudicato alcamese Domenico Presti, commerciante di frutta e verdura soggetto noto fra gli spacciatori di cocaina e nel contempo notificavano un avviso di conclusione indagini preliminari nonché un'informazione di garanzia al noto medico 44enne alcamese Alida Lauria e al rampollo mafioso Giuseppe Di Giovanni, giovane di fiducia del gota melodia. Un lavoro frutto di una difficile indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Trapani e condotta dal commissariato di Alcamo scaturito dal sequestro di 13 kg di asci e marijuana rinvenuti dagli investigatori di Alcamo in sinergia con gli uomini della mobile e della dia trapanese in un'abitazione dell'Alcamo Marina nella disponibilità del Di Giovanni durante la noto operazione antimafia del 21 febbreo scorso. Le indagini venivano chiuse mettendo a carico del Di Giovanni la detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Analogo provvedimento nell'ambito delle stesse indagini partiva a carico della dottoressa Lauria che fermata e trovata in possesso di una modica quantità di cocaina forniva una versione dei fatti falsa per proteggere il suo fornitore individuato in Domenico Presti sul quale si scopriva essere il fornitore di cocaina in varie cessioni tutte a favore della dottoressa Lauria alcune delle quali consumate quando sottoposta agli arresti domiciliari per analogo i reati.